Basta, la rimonta è già finita, tutti questi 1-0, teee, perché non si gioca a calcio così quando alleni la Juve, hai capito? Siete diventati la provinciale d'Italia, il club più vincente in Italia, la provinciale d'Italia siete diventati. Ti sta bene questa sconfitta Allegri, ti sta bene, perché veder giocare la Juve è raccapricciante. Io oggi ho guardato giocare il Sassuolo e vincere, perché prendo le parole del Messia Max Allegri, questa era una partita non da giocare, infatti ha giocato il Sassuolo, ma non l'hai neanche vinta, perché questa detta tua era da vincere. Per continuare questa rincorsa, ma senza, ripeto, un progetto di gioco, solo un progetto di risultati, ma quando il materiale umano non è più come avevi Vidal, Marchese, Pogba, il materiale umano è questo. Questa squadra qua la devi portare tu nelle prime quattro, perché è una squadra che rischia di non arrivarci neanche nelle prime quattro, per come ridotto, quindi sono contento anche per il Sassuolo, perché devo dire che quando l'ho visto giocare, anche con l'Inter aveva giocato bene, aveva raccolto meno di quello che questa squadra merita, ed è la consacrazione di Mimmo Berardi, un giocatore che, ripeto, fosse brasiliano-inglese, lo staremo a consacrare, questo è un grandissimo giocatore, un giocatore totale, che l'ho visto in ripiegamento difensivo, e oggi è entrato in tutti i due gol, con l'assist a Maxime Lopez, con la grande apertura veramente fantasmagorica, e col movimento ad andare a, diciamo, eludere la marcatura di De Ligt, su poi il marcatore che è stato fratesi, su assist De Frey, un'azione bellissima. Però, ho detto queste fatidiche parole nella mia ultima live, la vera Juve si vedrà quando andrà in svantaggio, perché rinunciando a giocare così a prescindere, ok, e difendendolo 1-0, però non andrai sempre, non avrai sempre, non il culo, però, non avrai sempre la bravura di andare tu in vantaggio. Con l'Inter ti è andata bene perché Danfries, anche Inzaghi, ha sbagliato i cambi, e quindi va bene, errori degli altri, meriti tuoi, anche, ci mancherebbe, hai fatto il rigore, hai messo Dybala, hai messo Chiesa, va bene. Però, quando vai in svantaggio, si è vista la difficoltà della Juve, poi l'avevi anche rimessa in gioco col pareggio, e poi lo stadium stava anche spingendo per la vittoria, ma te lo meriti, te lo meriti per cosa non stai costruendo, perché tu stai rinunciando a costruire una squadra che magari non è da scudetto, ok, perché la rosa è quella lì, però diciamo che, come dire, nelle prime quattro è obbligatorio che deve arrivarci, no, visto che l'anno scorso era colpa di Pirlo, vediamo Allegri quest'anno se ci arriva nelle prime quattro. Comunque, io ve l'ho sempre detto, la Juve, scordatevi, lo scudete, e ora penso che l'abbiate capito tutti, no, perché poi anche adesso la distanza è veramente abissale, ma non è neanche poi i punti in classifica, i risultati, è proprio che non c'è questa Juve, sia come gioco, sia come giocatori. E poi io continuo a dirlo, Allegri con Chiesa non c'entra nulla. Oggi gli ha fatto fare il compito difensivo la Chiesa. Chiesa poverino nel primo tempo è anche una sua caratteristica, perché uno che è un giocatore di sacrificio, di garra, mettiamola così, ha recuperato 3-4 palloni interessanti, ma Chiesa deve giocare là davanti e farti la differenza. Anche perché non hai una punta, perché Morata non è più una punta, è un giocatore che a me piace, ma ragazzi sto qua non tira più in porta. Quindi Chiesa in questo momento nella Juve deve fare la punta, seconda punta, quello che vuoi, ma deve giocare là davanti. Perché poi diballa partitone, però ripeto, Chiesa ha le caratteristiche che vede la porta da ogni posizione, cazzo. Chiesa deve giocare là davanti, anche McKennie, che è giocatorino. Poi sì, è bravo nell'inserimento, ha fatto un grandissimo gol, ma non ci rabbiò, Locatelli anche male, anche se poi Locatelli a me piace, però diciamo che è un po' in calo. Ha messo Caio Iori, che poi mostra la disperazione, che non mi è dispiaciuto. Io ho notato due giocatori che stanno avendo un'involuzione pazzesca. Uno è Alexandro, che è disastroso. Berardi non l'ha mai preso, infatti sul primo gol è stato anche complice lui di un errore. E De Ligt. La coppia De Ligt-Bonucci, ragazzi, non va, non gira. De Ligt deve giocare sul centro-destra, anche lui appunto sul primo gol dorme. Tanti errori anche in fase di impostazione, quindi non ci siamo. De Ligt ha avuto un'involuzione, comunque, secondo me Allegri l'aveva preparata così. Partiamo forte, cerchiamo di portarci sull'1-0, perché sapeva che il Sassuolo è una squadra che spesso ha un approccio un po' tardivo alle partite. No, ci mette un po' anche perché è una squadra che gioca, ok? Gioca dal basso, quindi Allegri, pressione alta. Se magari Morata avesse tirato in porta, però sai, con i sé non si va da nessuna parte, la Juve sarebbe andato 1-0, allora lì magari era un'altra partita, ok? Invece ha avuto 10 minuti di grande Juve, non azione incredibile, però comunque di impeto offensivo, ok? Poi però è venuto fuori la qualità del Sassuolo, va in svantaggio e gli sorgono i problemi. Poi certo, qualche occasione l'ha avuta, ma tutte azioni confusionarie. Cioè non c'è un'idea di gioco, nessuno che si smarca. Ripeto, lo schema è palla di vale, speriamo che succeda qualcosa. Scusate che mi stanno chiamando, ma rifiuto la chiamata. Però ripeto, vittoria meritetissima del Sassuolo, non me l'aspettavo alla fine, perché ho detto, sta a vedere che poi alla fine la Juve la sfanga. Io avevo pronosticato X, quindi vedete che ci avevo, diciamo, preso, mettiamola così, e poi è arrivato il gol di Maxime Lopez, tra l'altro molto bene, ok? Signori, vi saluto, vi ringrazio. E sempre Forza Lazio, ci vediamo dopo col video, ciao!